Buongiorno, mi presento, sono Penelope Chiara Cocchi, artista visiva. Da oltre dieci anni lavoro come artista in ambito di arte contemporanea e le mie opere sono sculture, installazioni, dipinti, disegni, foto e video. Oggi incontro il professor Vincenzo Levizzani, scienziato dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna. Ha insegnato per oltre vent'anni Fisica delle Nubi all'Università di Bologna ed è autore di un gran numero di pubblicazioni sulle nubi e le precipitazioni, incluso il suo recente libro Il libro delle nuvole per i tipi del saggiatore. Suoi interessi di ricerca sono la struttura delle nubi, la formazione delle precipitazioni, la meteorologia da radar e satellite, gli eventi estremi, con particolare riguardo al bacino del Mediterraneo, ma anche il ciclo dell'acqua. Siamo ospiti oggi del CNR nella bellissima sede della sua biblioteca, nella sede di Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Professore. Perché questo incontro? Chi mi conosce sa che la mia ricerca artistica si basa in gran parte su visioni suggerite dalla scienza e che spesso mi affianco a grandi scienziati per trattare le tematiche toccate dalle mie opere. L'arte nella mia ricerca ha lo scopo di risvegliare la sensibilità su temi essenziali, spesso filosofici, esistenzialistici, spesso spinosi e fondamentali per la comprensione del nostro essere nel mondo. La presente intervista nasce da una mia nuova serie di opere che riflette su una tematica essenziale per la nostra vita sulla Terra, un elemento che il professore conosce molto bene, ossia l'acqua. Le opere della serie Dinosaurs P sono un gruppo di installazioni di matrice concettuale formate da una raccolta di bottiglie della stessa forma e dimensione che reca etichette con diverse scritte. Ogni bottiglia contiene acqua trasparente e ogni etichetta indica l'origine di tale acqua. La serie include svariate bottiglie con varie diciture, alcune di queste sono liquido amniotico, acqua della fossa delle Marianne, acqua del Mediterraneo, acqua dello sciacquone del water e molte altre. La serie, dal titolo volutamente provocatorio, riflette sulle connessioni tra il microcosmo umano e il macrocosmo, sul rapporto tra il genere umano e il mondo naturale, spesso interpretate come entità distinte. La scienza è solita affermare con ironia che l'acqua che beviamo è la pipì dei dinosauri, per spiegare l'origine e il continuo riciclo interno del nostro elemento vitale. La riflessione rompe volutamente la sfera temporale, risalendo, grazie al titolo, all'inizio della storia della Terra. Il tema centrale della serie parte dagli studi di Lavoisier e cita simbolicamente le sue parole, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. La scienza ha dimostrato che l'acqua presente oggi sulla Terra è la stessa dalla genesi, poiché è creata sì in modo endogeno ed esogeno, particelle provenienti dal cosmo, e costantemente caricata e depurata dalla natura di elementi esterni. Oggi affronteremo il tema dell'acqua col professor Vincenzo Levistani, capace di trasportarci dentro una nuvola sopra le nostre teste, ma anche all'inizio di tutto, quando l'acqua proprio non esisteva. Buongiorno Vincenzo e grazie di aver accettato di incontrarci in questa bella chiacchierata, sono molto onorata di essere ospitata oggi qui al GNR. Allora, prima di tutto comincerei con una domanda importante. Potresti portarmi una tua interpretazione delle opere della serie Dinosaurs B. Cosa ci vedi? Hai qualche riflessione da farci? Sì, ho guardato attentamente le tue bottiglie, giusto? Che non sono semplici bottiglie, appunto. Perché fossero semplici bottiglie, vabbè, insomma, uno ce le ha anche nell'acqua minerale che beve a casa. No, qui direi che quello che ha detto a me ogni singola etichetta è una declinazione di uno degli aspetti dell'acqua sul nostro pianeta. L'acqua non è tutta uguale. ecco, c'è l'acqua prima di tutto liquida e solida. Tu ti sei soffermata per il momento, immagino, sull'acqua liquida. Ma anche l'acqua liquida non è tutta uguale. Appunto, l'acqua della Fossa delle Marianne, stiamo parlando di diversi chilometri sotto la superficie dell'oceano, è molto diversa da quella del Mediterraneo, per esempio. In un'altra, infatti, etichetta acqua del Mar Mediterraneo. Sono due acque molto diverse. Una è un'acqua di profondità, l'altra è un'acqua invece di un mare relativamente poco profondo, diciamo, soprattutto comparato a quello della Fossa delle Marianne. Bene, questo ci dice, per esempio, a me viene in mente una cosa, anzi, un paio di cose almeno, su queste due declinazioni. Beh, una che l'acqua, diciamo che raggiunge la sua massima densità a 4 gradi centigradi, più o meno. Diciamo, quando si raffredda, cosa fa? Va verso il basso, però inizia a ghiacciare dall'alto. Questo ci dice, per esempio, che negli oceani artici, qui parlando, ecco cosa mi suggerisce questa storia della profondità. Negli oceani artici come mai ci sono dei pesci, molluschi, celenterati, artropodi, che ne so io, anche a profondità abbastanza rilevanti? È perché l'acqua non ghiaccia a quelle profondità, ghiaccia solo in superficie. Per converso, l'acqua nel Mediterraneo è un'altra cosa, nel senso che in questo momento il Mediterraneo è un cosiddetto hotspot climatico, punto caldo climatico. È uno dei luoghi che si riscalda di più sulla superficie della Terra a causa dei cambiamenti climatici, dell'innalzamento delle temperature. Ecco, qui arrivano le specie tropicali. E non solo, ma questo aumento della temperatura di queste acque provoca un cambiamento della circolazione atmosferica e anche oceanica nell'intero bacino del Mediterraneo. Ecco allora che cosa mi suggerisce, come scienziato, riconosco, questa tua opera o serie di opere, anzi, però non solo questo, ovviamente. Mi suggerisce, ma insomma, il liquido amniotico, beh, mi porta direttamente al fatto che l'acqua è essenziale per la vita. Senza acqua non c'è vita, come la conosciamo noi, naturalmente, perché potremmo scoprire, non lo so, fra qualche centinaia o migliaia di anni, che esiste vita nell'universo in altre forme, che si basa su altre molecole che non siano appunto l'acqua. Dopo ne parleremo magari un po' più diffusamente della molecola d'acqua, però diciamo l'acqua è un fatto che non si beve, non si vive. Ecco. Allora, il liquido amniotico è proprio dall'inizio, da dove l'uomo viene, dal grembo della madre, giusto? E lì la maggior parte è acqua e naturalmente il nostro corpo è fatto per la maggior parte d'acqua. Ecco. Oltre a questo, diciamo, l'acqua mi viene da queste bottiglie che contengono appunto la famosa pipì dei dinosauri, ma mi viene in mente anche che l'acqua la si può vedere da tantissimi punti diversi, la si può vedere anche come scienziati, la si può vedere in atmosfera, la si può vedere negli oceani, nei laghi, nei fiumi, nei mari, ma anche nelle rocce. Ed è da lì, infatti, che poi alla fine proviene, no? L'acqua nell'universo, beh, quella non la conosciamo, la conosciamo poco, perlomeno, ma insomma, studiare l'acqua significa vederla sotto tantissimi punti di vista diversi. Ecco cosa mi suggeriscono le tue famose bottiglie. Bene, bene, bene. Ora una curiosità, sai che lo stesso CERN, che è un centro di ricerca importante a livello scientifico, ha realizzato un programma artistico. Cominciano a diffondersi in ambito di arte contemporanea molte opere, molti artisti si stanno interessando al rapporto tra arte e scienza. In tanti commentano che è perché la scienza è diventata una parte fondamentale della nostra vita, proprio per interpretare la nostra stessa salute nel mondo, eccetera, ma di fatto l'arte contemporanea ha una altissima percentuale proprio di interferenza, di collaborazione, quello che vuoi chiamare tra arte e scienza. Tu, personalmente, cosa ci trovi che abbiano in comune? Ma mentre parlavi pensavo che, non so se sono del tutto d'accordo sul fatto che questo legame profondo tra arte e scienza è saltato fuori soprattutto negli ultimi tempi. Non lo so se sono d'accordo perché molti artisti, diciamo, del tempo che fu, ma insomma, viene immediatamente in mente Leonardo. C'è poco da fare. Leonardo era un grandissimo artista, ma era anche un enorme scienziato, ecco. E lui le cose le vedeva da tutte e due, cioè non si poteva scindere la figura di Leonardo quando faceva l'idrologo, quando faceva il botanico, l'anatomista, oppure quando faceva semplicemente il pittore o lo scultore. Erano un tutt'uno della sua personalità, no? Ecco, adesso è molto difficile, ovviamente, trovare persone come Leonardo. È diventato quasi impossibile perché? Perché la conoscenza scientifica del nostro ambiente, del nostro mondo, è diventata così profonda da far sì che, diciamo, una persona che sia un vero enciclopedico è difficile trovare. Quindi questa specializzazione degli scienziati, no? Che è un bene ma è anche un male. Ecco, io personalmente non lo vedo proprio come un bene totale perché capire qualcosa anche di quello che fanno gli altri scienziati o anche gli artisti è un, secondo me, un valore importante. Ecco, allora l'arte cosa dice a me? Veniamo a bomba. Ma io prima di tutto, fin da giovane, ho preso in mano pennelli, colori, eccetera, eccetera. Con i risultati, va bene, insomma, non eccelsi perché non ho fatto l'artista, appunto, però avrei potuto farlo. Questa vena in me c'è, ecco. Per cui io quando vedo una cosa, beh, insomma, la mia professione, io sono un fisico delle nubi, le nuvole, no? Quelle che chiamiamo nuvole in, diciamo, gergo corrente. Ma come si fa a guardare le nuvole e non essere un po' artisti? È impossibile. Le nuvole sono sempre diverse le una delle altre. Ecco, poi l'acqua stessa si declina in tanti modi. Beh, se uno la guarda, ma insomma, se uno guarda una superficie dell'oceano, no? Cambia in continuazione con la luce, come la luce incide, l'alba, il tramonto durante il giorno, eccetera, un fiume, un, non lo so, insomma, come si fa a non essere un po' artisti? Come la vedo, la vedrei io se dovessi metterla sulla carta, sulla creta, su che ne so? Ecco. Oltre a questo, diciamo, c'è proprio il fatto che a volte arte e scienza si sono fuse in un tutt'uno. Mi viene in mente un altro esempio. I paesaggisti inglesi come Turner, per esempio, o gli impressionisti francesi come Sisley, per esempio. Sisley era un grandissimo pittore di acqua. Ma il fatto è che le guardava con l'animo con cui le guarderei io. Questo è il punto, no? Non mi paragono affatto con Sisley o con Turner, però, insomma, quando lui mi dipingeva una marina con un nimbo strato che si stava avvicinando e che avrebbe scaricato acqua nel giro di poco, con queste persone belle e tranquille, che poi dopo, tanto tranquille nel giro di qualche minuto, non sarebbero più state, beh, questo mi dice che Sisley sapeva. Sisley non poteva non sapere. Ecco allora, arte e scienza che si uniscono in un tutt'uno. E ciascuno la vede a modo suo, d'accordo, però fertilizza l'altro. Ecco, questo è. Ma poi potrei parlare dei giapponesi, potrei parlare di tante cose. Insomma, se uno guarda certe stampe di Hokusai, per esempio, ma, insomma, vede la pioggia declinata in tantissime. Io, per esempio, ne ho una a casa che mi sono comprato, perché era troppo bella, e una che poi tra l'altro usò anche Van Gogh, quando dipinse sostanzialmente la stessa cosa. Infatti al Museo Van Gogh di Amsterdam c'è la stampa di Hokusai e c'è di fianco il dipinto di Van Gogh, no? Che è questo acquazzone sul ponte, sul fiume. Ecco, è un'acquazzone terrificante, no? Ecco, Hokusai lo ha proprio fotografato, no? Con questa gente che non sa dove mettersi, perché l'acqua scroscia, scende in una maniera incontrollata. Ecco, allora, ecco, qui dire arte, dire scienza. Bah, secondo me sono un tutt'uno. Vincenzo, oggi siamo ospiti del CNR. In tanti sanno che luogo è, altri questo luogo lo conoscono il giusto. Chiederei a te di spiegare un po' di che luogo si tratta. Tu hai lavorato per tanto tempo per il CNR, è un'importanza grandissima, è un orgoglio grandissimo anche per il nostro territorio, quindi ti chiederei un po' di presentare il luogo che ci ospita e casa tua. Certo. Casa mia, di cui sono orgoglioso all'estrema potenza, è appunto il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è nato, e qui è una cosa bellissima, è nato cento anni fa. Esattamente cento anni fa. È esattamente cento anni fa. E diciamo, questo essere nato cento anni fa vuol dire che è nato durante l'epoca, il ventennio fascista. Però, diciamo, venne pensato come il centro di ricerca nazionale che si occupasse un po' di tutta la scienza. Ecco. Diciamo, i primi presidenti del CNR furono illustri, il matematico Volterra, per esempio, Vito Volterra. Cuglielmo Marconi fu uno dei presidenti del CNR. Lo sanno in pochi, però è così. Cos'è però il CNR, il CNR oggi? Il CNR oggi sono circa 8.000 persone, più o meno, sparse su tutto il territorio nazionale, isole comprese. Diciamo, costituito da tantissimi istituti che si occupano di un po' tutti gli aspetti dello scibile, del sapere umano. Quindi, dalla fisica, alla chimica, alla biologia, alla medicina, all'ingegneria, alla matematica, eccetera, eccetera. Siamo strutturati in istituti. Cioè, istituto che cosa vuol dire? L'istituto è un dipartimento del CNR che si occupa di una determinata branca del sapere. Il mio è, appunto, come dice il nome, hai detto tu all'inizio, è istituto di scienze dell'atmosfera e del clima. Quindi ci occupiamo di tutto ciò che succede in atmosfera, soprattutto per quanto riguarda il tempo e il clima. E, appunto, diciamo, il clima, i cambiamenti climatici, le modellazioni climatiche. Ecco. Qui a Bologna, dove siamo in questo momento, ci sono diversi istituti, non tutti, ovviamente, perché siamo, come dicevo, sparsi su tutto il territorio nazionale. Il mio istituto, per esempio, ha sedi secondarie a Roma, Padova, Torino, Lecce, Cagliari, La Mezzia Terme, eccetera. Comunque, qui a Bologna abbiamo diverse cose. Abbiamo, per esempio, diversi istituti della chimica. Abbiamo un istituto che si occupa di bioeconomia, un altro che si occupa di semiconduttori ed elettronica, quindi anche di nanoparticelle e cose di questo genere. Uno che è l'Istituto di Scienze del Mare, che ha qui una delle sedi, la sede principale a Venezia. All'interno di questo campus di ricerca di Bologna, appunto, ci sono tutti questi istituti di cui ho parlato, ma il CNR nel tempo ha subito delle scissioni, nel senso che dal CNR si sono dipartite poi delle costole che hanno formato altri istituti nazionali. Uno è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha assorbito i nostri istituti che si occupavano, appunto, di vulcani, terremoti, eccetera, eccetera, che non sono più con noi. E un altro è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'INAF, che ha due istituti che erano del CNR, appunto, il Lottempore, poi con la costituzione dell'INAF si sono staccati ma sono rimasti qui con noi. La cosa bella è questa. Ecco. Quindi al di là dei raggruppamenti o degli istituti o dei, diciamo, dei raggruppamenti nazionali, ecco, insomma, gli scienziati si capiscono sempre, ecco, per cui non è un problema. Qui abbiamo, appunto, un istituto di radioastronomia e un istituto di radiazioni extraterrestri. Ecco. Quindi questo è il CNR a Bologna. Ma il CNR a Bologna è anche questa formidabile biblioteca, che è uno dei cuori pulsanti di questo campus. È un luogo intorno al quale un po', direi, che circola la vita di questo campus, perché, diciamo, non è soltanto costituito da libri oppure accessi a riviste via internet. Quello lo puoi fare anche dal tuo, dalla tua scrivania, ecco. No, qui vengono organizzate, appunto, anche diverse iniziative, diversi incontri col pubblico e quindi uno di questi è Slow Science, attraverso il quale molti di noi hanno divulgato scienza alla nostra cittadinanza, che ci vuole ascoltare. Ecco. E anche altre cose, per esempio, incontri con gli artisti. Questo è uno, ma ce ne sono stati altri, con mostre anche qui dentro. Il luogo si presta, come si vede. Assolutamente sì. Bene, mi hai citato, appunto, tante tematiche che fanno parte della ricerca del CNR. Hai parlato di extraterrestre. A questo punto mi aggancio e ti chiedo, come è arrivata l'acqua sulla Terra? Cioè, un ignorante si immagina e dice, C'è sempre stata l'acqua, no? C'è sempre stata. C'è stata un'origine di qualcosa, stiamo ricercando di origini, no? Del tutto. Perché c'è l'acqua sulla Terra? Da dove è sgorgata? Da dove è arrivata? Da dove si è generata? È una domanda essenziale, no? Assolutamente sì. Quindi, diciamo che forse la domanda è questa, da un lato, ma è anche, a qualcuno potrebbe anche venire in mente che l'acqua, appunto, contraddicendo la voasie che hai citato prima, si può creare e distruggere. Cioè, in definitiva, poi è un composto chimico, H2O, no? Cioè, due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Bah, insomma, uno dice, mi metto lì con idrogeno e ossigeno e posso produrre acqua. Sì, in laboratorio lo posso fare, ma in realtà in natura questo non succede. E questo appunto, e da qui deriva la domanda. Da dove viene tutta quest'acqua? E quest'acqua, diciamo, prima di tutto devo dire che il modello socratico di conoscenza, io so che nulla so, qui si applica proprio a piene mani, perché in realtà non lo sappiamo con precisione. Comunque, qualche idea ce l'abbiamo. E quello, l'idea che abbiamo è che al Big Bang, 13,7 miliardi di anni fa circa, no? Tutto ad un tratto, nel giro di pochi secondi, si formarono tutti gli atomi di idrogeno che ci sono nel cosmo. Tutti. Boom! E si forma l'idrogeno. Eh, ma l'idrogeno è un protone e un elettrone. È la molecola più piccola che ci sia. Ed è ovviamente in testa al numero, diciamo, di molecole per specie in tutto il cosmo. Ecco. Però con solo idrogeno che si fa? Poco, no? E allora abbiamo dovuto aspettare milioni di anni, insomma. E in sostanza si sono create le nubi di pulviscolo e di, appunto, atomi di idrogeno, eccetera, sempre più dense, sempre più, diciamo, soggette a collassi e forze gravitazionali. Quindi si sono formate le prime stelle a seguito di questo, le quali poi con processi di fusione, fissione, eccetera, sono poi esplose, diventando mani bianche, sono poi esplose, formando delle stelle secondarie. Ecco, il Sole è una delle stelle secondarie. Intorno a queste stelle permaneva questo pulviscolo, che conteneva questi atomi di idrogeno, eccetera. Ecco, e con l'aumentare della pressione, quindi della temperatura, eccetera, si sono formati gli elementi successivi, quelli con più protoni, elettroni, eccetera, quindi anche il carbonio e quindi anche l'ossigeno, alla fine. Allora, diciamo, l'acqua come si è formata? Ma l'acqua si è formata nelle stelle, in questi protostelle e protopianeti, diciamo, no? Perché erano ancora, cioè, i sistemi non erano ancora quelli che ci sono attualmente, insomma. E, diciamo, intorno a queste protostelle e protopianeti, queste nubi primigenie di gas e particelle, hanno fatto sì che si formasse anche l'acqua. Ci sono volute condizioni di temperatura e di pressione sufficienti perché ciò accadesse, perché debbono stare insieme questi, diciamo, questi atomi di idrogeno e di ossigeno. Però, e qui sta il punto, se tutto fosse rimasto così, ma, insomma, siamo comunque nel cosmo e quindi, e qui ci incontriamo con una proprietà della sostanza acqua di cui dobbiamo sempre tenere conto. Noi pensiamo che la sostanza acqua si crei e si distrugga attraverso evaporazione, formazione, sublimazione, solidificazione, diciamo, formazione dello stato liquido, eccetera. Eh, ma non è tutto liquido. La molecola, invece, di H2O è una molecola che è estremamente sensibile alla radiazione ultravioletta. E nel cosmo ce n'è, a bilzette. Se l'acqua fosse rimasta solo nel cosmo, senza una protezione dal pulviscolo o dalle rocce o da quant'altro, sarebbe sparita nel giro di poco. Perché? Perché la radiazione ultravioletta scinde i legami tra idrogeno e ossigeno. E quindi, in pratica, idrogeno e ossigeno si allontanano, l'idrogeno è una molecola estremamente leggera e quindi fugge nel cosmo. E addio acqua. Ecco, questo è l'inizio. Però uno dice, d'accordo, però stiamo parlando della Terra. Com'è che è arrivata sulla Terra? Eh, e qui la faccenda si complica ancora di più. Perché, diciamo che, circa 4,5 miliardi di anni fa, più o meno, si è assistito alla formazione del nostro pianeta, in grosso modo. Per 500 milioni di anni, diciamo, questo pianeta è stato un luogo che definirlo invivibile è un neofemismo. Infatti, è il periodo cosiddetto adeano, da ade, no? Quindi un inferno, sostanzialmente. Il nostro pianeta era un inferno. Caldissimo, temperature oltre 200 gradi, ma anche di molto, eccetera. E quindi rosse le volcaniche, tutto quello che vuoi. Ecco, e che succede? Allora, a un certo punto, piano piano, ah, naturalmente, tutto circondato da una nube di anidride carbonica e di altri gas, soprattutto l'anidride carbonica, che aumentava ulteriormente le temperature, perché sappiamo che è un gas serra, no? Ecco, allora, a un certo punto, la temperatura ha cominciato a diminuire piano piano, appunto, perché il pianeta cominciava a solidificarsi sempre di più, quindi temperatura in diminuzione, ma non solo questo, diciamo, anche i gas serra hanno cominciato ad abbandonare il pianeta, CO2, eccetera. Quindi, in sostanza, il tutto fa sì che, attraverso le eruzioni vulcaniche, l'acqua, che era contenuta all'interno di questa massa in solidificazione, venisse convogliata all'esterno. E quindi la formazione dell'atmosfera, con un'atmosfera che il pianeta è riuscito, in qualche maniera, appunto, attraverso la gravitazione e la sua conformazione, a tenere intrappolata. Ecco, e lì, magia, si sono formate le prime nuvole. È una cosa emozionante. Sono formate le prime nuvole, ma la cosa bella è che ha cominciato a piovere. Ha cominciato a piovere, ma non è piovuto due giorni o dieci minuti, come piove adesso. È piovuto centinaia e addirittura migliaia di anni. Si sono formati gli oceani. Ecco, questa è la teoria cosiddetta endogena, cioè l'acqua viene dall'interno del pianeta. Però, se così fosse, diciamo, il pianeta nostro è nato nella cosiddetta linea della neve, no? Linea della neve che, gross modo, è a 2,7 più o meno volte la distanza media Terra-Sole. Ecco, in questo luogo qui, l'acqua avrebbe dovuto ghiacciare tutta e poi evaporare e di conseguenza, non essendoci ancora abbastanza potere di ritenzione da parte del pianeta, avrebbe dovuto fuggire verso lo spazio. Quindi questo, diciamo, c'è questa pecca, questa teoria. Ci sono altre due possibilità. La prima è quella che, diciamo, e questo lo sappiamo per certo, dall'astrofisica, dalla planetologia. Il nostro pianeta, insieme a tutti gli altri pianeti e corpi dei sistemi solari, eccetera, è colpito in continuazione da, diciamo, meteore varie, insomma. Ecco, per esempio le comete. Le comete sono ghiaccio sporco, sostanzialmente. Sono formate per la maggior parte da ghiaccio e da, diciamo, aerosol, da corpuscoli, no? Dunque, il perché hanno la coda lo sappiamo, cioè il ghiaccio a un certo punto sublima e quindi viene perso verso lo spazio e la coda è il vento solare che le attiene. Infatti sono sempre orientate, diciamo, in modo da avere la coda opposta al sole perché, appunto, le particelle e anche l'acqua abbandona le comete. Però quando le comete impattano su un corpo, un corpo, diciamo, planetario, quello che fanno è rilasciarla. Giusto? Ecco, si calcola che tra tutti gli impatti che di sicuro il nostro pianeta, insieme a tutti gli altri pianeti del sistema solare, ha subito, se anche un quarto di questi, anche solo un quarto, fosse proprio stato causato da comete, spiegheremmo il contenuto d'acqua degli oceani. non è poco, non è poco. Ecco, quindi l'acqua viene dallo spazio in questo modo. Però c'è un problema. Il problema è che le ultime missioni, quelle cometarie, per esempio anche l'italiana Rosetta, insieme all'Agenzia Spaziale Europea, hanno scoperto che l'acqua delle comete in realtà è un po' diversa dall'acqua che c'è sulla Terra. Perché il, diciamo, il deuterio che è presente in quest'acqua, non è presente nell'acqua della Terra. Quindi le due cose vanno d'accordo fino ad un certo punto. Quindi c'è un'altra possibilità, che provenga dagli asteroidi e dai planetesimi, diciamo, tra Marte e Giove. Questa è un'altra possibilità. Non lo sa nessuno. Attualmente, diciamo che partigiani dell'una e dell'altra ci sono, però, insomma, qualche, diciamo, incertezza c'è. Ecco. E questa incertezza fa sì che molto probabilmente quello che è successo è un utile mix tra tutte queste cose. Perché che i vulcani all'inizio abbiano erottato e formato l'atmosfera che abbiamo, questo è un fatto. Ecco. Che però l'acqua venga da lì è un altro discorso. Se però uno va a guardare una delle lune di Saturno, mi sembra, è un celado, uno vede che questa qui contiene un geyser mostruoso che ha un'altezza di 20 volte il diametro del pianeta, quindi si spinge molto lontano. E questo è un geyser d'acqua insieme a molecole organiche. Pensiamo che roba, non sa niente nessuno. Quindi ecco perché l'acqua è così misteriosa. È misteriosa nella parte microscopica ed è misteriosa ancora, diciamo, nella struttura del cosmo. Pensiamo di sapere tutto. E in definitiva poi è una molecola che conosciamo tutti. Ci laviamo la faccia tutte le mattine, giusto? E noi uno dice, vabbè, che misteri vuoi avere da una molecola così semplice, no? Se pensiamo a certe molecole organiche o biologiche, eccetera, così complesse, eccetera, ma l'acqua, vabbè, sappiamo tutto. No, è vero? Ecco, non sappiamo già tutto su di lei. No. Non sappiamo tutto, non sappiamo neanche, per esempio, perché ghiaccia in almeno 12 reticoli diversi, non so. perché, per esempio, non so, insomma, abbiamo un'idea del perché quando solidifica, espande, ecco perché le tue bottiglie se le metti in freezer, le tue opere, insomma, hanno già finito di esistere perché si rompono le bottiglie. Ecco, però, diciamo, ci sono una serie di cose che noi sappiamo dell'acqua, ma di cui la spiegazione fisico-chimica non è ancora completa. Allora, ti chiedo questo, quanto è importante la presenza dell'acqua sulla terra ed è solo lei che permette la vita o ci sono altri fattori importanti? Sì, non sono un biologo, però, diciamo, allora, senza l'acqua la vita non c'è perché animali, piante e quant'altro sono costituiti per la maggior parte d'acqua. Ecco, quindi, diciamo, senza l'acqua non c'è vita, però non c'è vita anche senza l'aria. Io sono un fisico dell'atmosfera, quindi, diciamo, so che l'aria ha una determinata composizione e quindi senza, appunto, respirare e senza questa, diciamo, questa vita aerobica che noi abbiamo, chiaramente moriamo in poco tempo, ecco. Quindi acqua e aria, sicuramente. Non solo, è chiaro, ci sono anche altri cicli, no? Dopo parleremo del ciclo dell'acqua, no? Che è uno dei cicli più importanti, forse il più importante, però esiste il ciclo del carbonio, per esempio. Ecco, senza il carbonio non c'è vita perché, diciamo, anche noi siamo, diciamo, fatti di materia organica. Materia organica significa, appunto, che è basata sulla molecola del, diciamo, sull'atomo del carbonio, chiaramente. Ecco. Quindi, insomma, tutte queste cose insieme fanno sì che ci sia la vita. Ecco. Però l'acqua è probabilmente la cosa più essenziale che esista. Ecco. Tanto è vero che nei luoghi dove ce n'è poca, anzi, o dove non ce n'è punto, di acqua ce n'è veramente poca. E appunto di vita ce n'è, di conseguenza, ancora meno. Ecco. Per cui tutte queste cose sono importanti. Carbonio, l'aria che respiriamo e l'acqua. Tutte insieme, ecco. Senza una di queste non c'è la vita. Almeno, ripeto, come la conosciamo noi. Perché nessuno mi dice che da qualche parte non possa esistere, per esempio, un ciclo di vita fondato sull'ammoniaca. E chi lo sa? E chi lo sa? Per ora, nel sistema solare, abbiamo visto che questo non c'è, però in un qualche sistema solare alieno, chissà dove, chi lo sa? Allora, bisiamo la pipì dei dinosauri. Quanto è vera questa affermazione? È vera proprio per quello che dicevamo prima. E cioè che l'acqua è nata, diciamo, dall'idrogeno che si è formato nei primi secondi dopo il Big Bang e una volta formata quest'acqua è lì, a meno che non venga scissa dalla radiazione ultravioletta, quella rimane. Quindi rimane o, diciamo, come vapore, o come liquido, o come ghiaccio. Beviamo la pipì dei dinosauri perché l'acqua continua a trasformarsi. L'acqua è una sostanza incredibile perché è il solvente più importante in natura. Forse i nostri, diciamo, coloro che ci ascolteranno oppure coloro che guarderanno questo video non si sono mai fatta questa domanda. Ma l'acqua è il solvente più importante che c'è in natura. L'acqua raggia è un solvente. No, l'acqua è il solvente più importante perché si lega con tutto. L'acqua è una molecola che definire attaccaticcia è un eufimismo. Infatti nell'acqua si scioglie di tutto. A partire dal sale e da cucina a finire a... Cioè praticamente quasi tutto si scioglie in acqua, tranne gli oli, il petrolio, queste cose. Tranne queste cose qui, tutto si scioglie in acqua. Allora ecco perché la pipì dei dinosauri, no? Eh va bene, i dinosauri bevevano, facevano pipì, eccetera. Però quest'acqua andava nel suolo, veniva purificata attraverso il passaggio nei reticoli rocciosi, eccetera, e ritornava l'acqua di prima. Ecco perché beviamo l'acqua. Quindi ricicliamo i nostri stessi, se vogliamo, rifiuti, certamente in questo senso. Ma non dobbiamo preoccuparci, ecco. Tra l'altro, a proposito della prima domanda che mi hai fatto, mi è venuta in mente un'altra cosa. C'è una delle tue bottiglie, lo guardate bene, una delle tue bottiglie che ha come etichetta pure water, acqua pura. È una contraddizione in termini. L'acqua pura non esiste, non c'è. È l'acqua distillata, l'acqua pura, però bisogna che lo fai in laboratorio. Se io ti dicessi cosa c'è all'interno di una goccia di pioggia, io sono convinto che ti metteresti le mani ai capelli, perché c'è di tutto. Ci sono tutti i composti possibili e immaginabili che esistono in natura, organici, inorganici, eccetera. aerosol, particelle e così via. C'è il polline, ci sono i micro-organismi, c'è un po' di tutto. Ecco, quindi acqua pura, acqua pura non esiste, non c'è. Ecco, l'acqua che noi beviamo ha al proprio interno molte cose, diciamo. Naturalmente bisogna cercare di bere acqua che non abbia dei composti nocivi, e questo certo, però, per se stesso, il concetto acqua pura non c'è proprio. Non esiste. Allora, acqua declinata in meteorologia, idrologia, clima e tanto altro, la scienza non la fa un po' troppo complicata, questa è la domanda. So che è provocatorio, ma tu cosa ne dici? Sì, dunque, la scienza la fa veramente complicata. No, no, sono d'accordo, è così, è vero. Questo è, diciamo, il discorso che si faceva all'inizio su Leonardo, no? Leonardo era un idrologo, ma era anche uno che si occupava di meteorologia, era anche uno che si occupava, non lo so, di, per esempio, di reggimentazione delle acque o altro. Ecco, si occupava del corpo umano e così via. Ecco, allora, Leonardo era un idrologo, un anatomista, un meteorologo, un fisico, un ingegnere. Leonardo era tutto questo. Ecco, quindi la scienza attuale, invece, è fatta da idrologi, meteorologi, climatologi, ingegneri, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché è veramente difficile avere una conoscenza assoluta anche di una cosa semplice come l'acqua. Ecco, dobbiamo cercare di vederla, diciamo, nel profondo. Per vederla nel profondo occorre una conoscenza troppo approfondita. Ecco perché abbiamo suddiviso tanto le nostre specialità scientifiche, diciamo così, le nostre branche del sapere. Però questo ha provocato, secondo me, dei problemi. E i problemi sono che, un po' come un medico, insomma, che vai là perché hai un dolore allo stomaco, non so, ma a cosa è dovuto, no? E il medico dovrebbe sapere di tutto, dovrebbe essere un cardiologo, dovrebbe essere un esperto di medicina interna, dovrebbe essere, insomma, un sacco di cose. Ecco, se la specializzazione in medicina è rischiosa, a volte, beh, la stessa cosa succede nella scienza, poi, di fatto. Se io mi occupo di cosa succede a un temporale, per esempio, no? Che mi scarica l'acqua sulla superficie terrestre, se io non so che poi quest'acqua a un certo punto smette di essere assorbita dal terreno perché ne ha già assorbita troppo e ruscella e quindi mi provoca un'inondazione, allora ho dei problemi, no? Ecco, allora, bisogna sapere un po' di tutto questo. Bisogna sapere di meteorologia, bisogna sapere di idrologia. Ecco, quindi io sono per avere almeno una conoscenza, non la definirei superficiale, diciamo una conoscenza di base, ecco, anche sulle altre discipline. Ecco perché ritornare un pochettino al nostro buon Leonardo non guasta, secondo me. Beviamo la pepia dei dinosauri e fin qui ci siamo. Però perché è così scioccante questa notizia per noi? Perché uno penserebbe, cavolo, mi hanno sempre insegnato, da quando ero piccolo, chiudi il rubinetto perché sennò sprechi acqua? E tutti abbiamo sempre pensato, ok, l'acqua che se ne va, ciao, non si può mai più riutilizzare. Diciamo che sentiamo che ci sono dei sistemi di depurazione dell'acqua, però il senso comune dice chiudo l'acqua proprio perché viene sprecata e non torna mai più indietro. Ma allora scusate, bevo la pipì dei dinosauri, allora questa cosa non è vera. L'acqua ritorna? Ritorna e come? Quanto è vera questa affermazione e quanto è falsa al giorno d'oggi? Sì, questa è una domanda di una complessità veramente straordinaria. Dunque, è vero che l'acqua ritorna e questo l'abbiamo visto perché l'acqua è sempre quella dall'inizio del nostro universo, eccetera, quindi non è che si crea o si distrugge, la vuosiera e la ragione, insomma. Detto questo però, quando l'acqua se n'è andata, prima che ritorni può trascorrere un bel po' di tempo. È qui che sta il problema. Ecco, diciamo, attualmente il problema è questo. Esistono dei luoghi sulla terra che sono sottoposti, diciamo, ad alluvioni e altri invece sono sottoposti a siccità. E qui c'è la chiave di tutto. C'è la chiave di tutto perché se uno va nel corno d'Africa, per esempio, quindi Etiopia, Somalia, Kenya, Tanzania, insomma, dove l'Africa si incunea sotto la penisola arabica, ecco, se uno va lì scopre cosa vuol dire siccità. Le persone che vivono lì vivono per la maggior parte di pastorizia e agricoltura, ma è una pastorizia e agricoltura che non si basa sull'irrigazione, non c'è irrigazione. Quindi l'acqua scende dal cielo, le colture crescono, si mangia. L'acqua non scende, non si mangia. Allora, qui sta il punto. Diciamo che i cambiamenti climatici, per esempio, in questo momento, stanno evidenziando un problema molto grosso, che è questo. Tutti i modelli climatici, indistintamente, stanno prevedendo un cambiamento del ciclo dell'acqua, non tanto sull'ammontare totale di acqua che scende sulla terra dalle nuvole, no. Questo più o meno rimane costante. Il problema è che è sempre più localizzato, quindi ci saranno dei luoghi dove l'acqua, di acqua ce ne sarà di più, perché ci saranno più sistemi precipitanti che la faranno precipitare al suolo. E altri, invece, dove l'acqua praticamente sparirà. Il Mediterraneo è uno di questi ultimi. Il Mediterraneo è un hotspot climatico, appunto, ed è un luogo che è, diciamo così, più o meno incanalato verso un progressivo aumento della temperatura e anche di conseguenza una possibile desertificazione in alcuni luoghi. Allora, ecco perché l'acqua, diciamo, dobbiamo imparare a tesaurizzarla. Non tanto perché non ce ne sia. Per esempio, potremmo pensare come fanno gli israeliani. Gli israeliani, quello che fanno, è molto semplice. Hanno davanti il mar Mediterraneo, dissalano l'acqua del mar Mediterraneo. Se uno toglie tutti i sali, rimane acqua. Acqua dolce, acqua che si può bere, anzi, meglio, si può utilizzare per l'agricoltura, eccetera. Eh, ma questo comporta delle spese, comporta una tecnologia avanzata, ma quella c'è. Il problema sono, diciamo, i costi di questo. Ecco, siamo pronti ad una economia di quel genere? La risposta è no, in questo momento. Costerebbe troppo, per noi almeno. Ecco, allora, diciamo, fare un po' economia d'acqua non è sbagliato. Non è per niente sbagliato. Proprio in vista di un possibile clima futuro dove magari di acqua ce ne sarà meno. E allora dovremmo fare con meno acqua, imparando proprio da quelli che in questo momento l'acqua non ce l'hanno quasi. Cioè, se uno deve prendere una tannica, caricarsela sulla spalla, fare 20 chilometri andare, 20 chilometri a tornare dal posto più vicino, quell'acqua non la spreca. Ecco. Noi, invece, siamo abituati a sprecarla. Cioè, le docce di mezz'ora, no? Che non si capisce bene cosa uno si debba lavare, mezz'ora, perché un corpo umano, quando io sono stato sotto la doccia, tra l'altro, io, conoscendo queste cose, vi svelo un segreto, la mia doccia, la mia doccia è fatta così, io mi sapono, poi mi risciacquo, e poi mi reinsapono, e mi risciacquo, però spengo l'acqua. Eh sì. È per rispetto anche a queste persone, no? Però uno dice, va bene, però tu l'acqua ce l'hai, e lo so, ce l'ho. Però, diciamo, vediamo di non sprecarla in vista di quello che potrebbe essere un, diciamo, un cambiamento molto, molto grosso del nostro modo di vivere. Ecco. Poi c'era il discorso, no? L'acqua pura, non pura, eccetera, eccetera, quindi il fatto che dentro all'acqua ci siano cose innominabili e così via è sempre vero. Noi l'acqua la inquiniamo, come inquiniamo l'aria, i suoli e quant'altro, insomma. L'acqua è inquinata dalle microplastiche, sono dappertutto ormai, veramente dappertutto, e questa è colpa nostra, c'è poco da fare. L'acqua è inquinata da microorganismi, e l'acqua è inquinata dalle nostre feci, dai nostri, diciamo, dai resti delle nostre lavorazioni industriali e compagnie belle. Quindi, insomma, la poca acqua pura che noi abbiamo, cerchiamo di usarla bene. L'acqua è anche distruttrice. L'abbiamo purtroppo visto in Libia nei giorni scorsi e in altre occasioni simili in passato. Cosa ne pensi? Fa tutto parte del ciclo dell'acqua oppure l'uomo ci mette, per così dire, lo zampino? L'uomo di zampini ce ne mette parecchi, non ce ne mette uno solo. No. Diciamo, il discorso delle alluvioni, allora, quella della Libia è un esempio molto chiaro di quello che, della domanda, diciamo, di risposta alla domanda che aveva appena fatto, sono collassate due dighe. Quelle dighe lì erano senza manutenzione. Allora, è piovuto molto, è vero, ma la colpa non è della pioggia. La pioggia doveva venire, punto e a capo. Si sono collassate le dighe, si sono rotte le dighe e di conseguenza un sacco d'acqua è stata convogliata sulla città di Dern, in Libia, tutta in un colpo. Ecco, invece che gradualmente, come dovrebbe succedere? Cosa dovrebbe succedere? Normalmente, che chi sta maneggiando la diga ha le previsioni meteorologiche, ecco perché è importante prevedere, eccetera, ha le previsioni meteorologiche che pioverà tantissimo, e quindi il livello del lago all'interno della diga si alzerà in maniera preoccupante, allora apre la diga in maniera preventiva, quindi fa uscire un po' dell'acqua e quindi non succede quello che abbiamo appena detto. Ecco, quindi l'uomo, diciamo, la mano, quando succede un grande disastro è raro che l'uomo non abbia, diciamo, fatto qualcosa. Ecco, vogliamo fare un altro esempio? L'uragano Catrina, che tutti noi ci ricordiamo, ecco, l'uragano Catrina fu uno degli uragani più grandi, più impattanti della storia, diciamo, degli uragani che conosciamo, di categoria 5, quindi uno degli uragani più grandi, eccetera, eccetera. Però, ne arrivano diversi di questi uragani sulla costa degli Stati Uniti, perché Catrina New Orleans in Louisiana ha fatto tutti questi danni. Cosa molto semplice. Un mio collega americano della Florida un giorno mi disse, Vincenzo, guarda, quando dovesse succedere che un uragano passa per New Orleans e passa per questo particolare quartiere di New Orleans, dove c'è il lago Pontchartrain, succederà un disastro. Perché? Perché il lago Pontchartrain è a 100-200 metri di quota e sotto ci sono i quartieri della città e qui c'è un argine. È piovuto tantissimo, non è stato dato l'alerta, eccetera, eccetera. Ecco, gli argini si sono rotti e l'acqua è piombata sui quartieri, guarda caso, i quartieri più poveri della città. Ecco, dove l'uomo mette il suo zampino o i suoi zampini. Ecco, c'è poco da fare, insomma. Poi l'uomo un po' per convenienza economica, un po' per ignavia, un po' perché politica varia ed eventuale, insomma, non ci sente. Non usa bene la sua testolina. Non usa bene la sua testolina. I mezzi ci sono. L'acqua e le piccole cose di ogni giorno. So che da poco hai riflettuto su questa tematica, ci racconti qualcosa di più? Sì, per rispondere a questa domanda direi che ci incrociamo con quello che abbiamo fatto all'inizio sull'arte. L'arte incrocia alla scienza e viceversa, ma anche la tecnologia, ma la tecnologia delle piccole cose, quelle che usiamo ogni giorno. Non pensiamo necessariamente allo smartphone o a, diciamo, grandi ritrovati della scienza e della tecnica. Pensiamo a cose piccole. Uno dice piove, devo uscire, aspetta che prendo l'ombrello. Prendi tu l'ombrello, ma abbiamo sempre preso l'ombrello per ripararci dalla pioggia? Beh, la risposta è più o meno sì, nel senso che l'ombrello che tutti pensano sia stato inventato dagli asiatici, dagli giapponesi o insomma nel 300, 400, eccetera, è mica così. Se uno va 5-600 anni prima di Cristo in Mesopotamia vede che il re Assurnazirpal c'aveva dietro un dignitario che c'aveva un ombrello che lo riparava, probabilmente dal sole in quel momento, ma poi si è trasformato in qualcosa anche per la pioggia. Ecco, queste piccole cose. Un'altra piccola cosa, mi piace riflettere proprio forse sono in un momento della mia vita verso la fine della mia vita diciamo di scienziato sicuramente ma anche di uomo e quindi penso un po' a quello che vedo ecco l'impermeabile l'impermeabile e come è nato? L'impermeabile è nato diciamo dal fatto che i conquistadores spagnoli sono andati e anche i francesi a un certo punto andarono nelle Americhe e scoprirono che c'erano queste popolazioni che si coprivano con delle foglie di banano di quant'altro eccetera e stendevano una pattina di non si capiva bene cosa loro lo chiamavano co-au-ciu ed era il cao-ciu allora un frate disse ma questa qui se io la porto in Spagna questa è fantastica la spargo sugli indumenti fantastico mi proteggo dalla pioggia non è esattamente così perché il cao-ciu puzzola da fare paura e allora e allora insomma qui la tecnologia poi dopo diciamo venne lasciata un po' da parte questa 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 osservazione per un po' di tempo finché si arrivò nella Inghilterra del 7-800 e allora c'è questo signore che si chiama Macintosh uno scozzese il quale mise a punto ci mise dentro un po' di trementina insomma fece in modo che questa patina da spargere sugli indumenti diventasse diciamo sopportabile in qualche maniera ed ecco qui Macintosh quello che ha in Sherlock Holmes addosso è un Macintosh ma tu sei donna e io ti dico allora che una delle scoperte più interessanti no e più utili a tutti noi è stata fatta da un'ingegnera statunitense questa signora a un certo punto disse ma ci erano le prime automobili no e quando pioveva e nevicava era un problema grosso perché quello che dovevi fare era sporgerti all'esterno del finestrino e pulire materialmente con la mano il parabrezza con pericoli vari insomma e via così allora questa signora disse no momento e questa si inventò una spatola appunto con spatola di gomma attaccata ad un diciamo così ad un pomello che uno poteva azionare mentre mentre guidava con una mano non era esattamente il massimo della sicurezza però diciamo in questa maniera le prime Ford a un certo punto lo misero di serie beh questo si deve a una gentile signora ingegnera della Louisiana ecco ecco queste piccole cose insomma devo dire che il fascino per le piccole cose e non dar nulla per scontato è una delle caratteristiche della scienza e anche dell'arte quindi qui le riuniamo esatto in conclusione a questa bellissima intervista io ringrazio tantissimo professor Levittani grazie infinite perché davvero ci ha illuminato infinitamente su cose di portata fondamentale per la nostra vita sulla terra per il nostro vissuto quotidiano e dovremmo dicevo saperle tutti è la BC della vita è la BC della nostra esistenza è la BC anche del rapporto che abbiamo nei confronti di questo elemento così fondamentale a cui tu hai dedicato tutta la vita quindi io ti ringrazio tantissimo davvero ci hai illuminati ed immenso piacere è tutto mio e grazie per essere venuti al CNM grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti